Sono Genza Kamai, questo nome qua me lo sono dato perché sono appassionato di anime e manga giapponesi. Quando salgo sulla BMX succede una sorta di trasformazione e ho cercato di darmi questo nome qua particolare. Pratico questo sport da dieci anni, è nato da un giorno che sono tornato a casa una sera, accendo la televisione e vedo questi BMX, questi ragazzi qua che fanno delle evoluzioni, non pensavo che si chiamavano trick. Io ho detto wow, la BMX ce l'ho, perché no, perché non andare a provare? Io la BMX l'ho sempre voluta, sono riuscito a comprarmela e ho cominciato a fare le mie prime evoluzioni divertendomi così. Sono qua ormai da dieci anni, vincendo varie gare nel 2013, gli amatori nel FISE, passando nella categoria O. Adesso combatto contro i rider più forti del mondo, i rider lì erano i miei idoli che avevo visto in quel programma che avevo registrato ai tempi. Quando sono in BMX esprimo tutte le emozioni che ho dentro, rabbia, tristezza, dolore, felicità e si trasforma in energia per eseguire questi trick, queste combo, queste run. È un mio sfogo, è la mia passione. Mi alleno molto, alleno veramente tanto, 3-4 ore al giorno. Il mio obiettivo è un po' difficile, il mio obiettivo sarebbe il primo avere trick che sono solo miei, inventare cose che nessuno fa. Infatti quando vedo che un trick che non fa nessuno, cerco di portarlo a termine. E secondo, sarebbe bello batterli tutti. Io sono Gen Zakamai, questa è la forma delle mie emozioni, passione, maledizione e distruzione.